La voce di Benedetta Pretari, l'autore è Camparo, il titolo è Nonno Bruno. Ma da Lecce a Belluno, come lui non c'è nessuno, è finito il digiuno, sta tornando Nonno Bruno. Finalmente c'è qualcuno che organizza il Natuno, Nonno Bruno. Nonno Bruno, nonno Bruno, ora io teo. La voce di Benedetta Pretari, l'autore è Camparo, il titolo 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 è Camparo. Nonno Bruno, nonno Bruno, il consiglio per ciascuno ha convinto più di uno. Nonno Bruno, nonno Bruno, nonno Bruno, il titolo è Camparo, 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 il Nonno Bruno, nonno Bruno, sempre con te Nonno Bruno, nonno Bruno, ora è teo Nonno Bruno, nonno Bruno, sempre con te Nonno Bruno, nonno Bruno, ora è teo Nonno Bruno, nonno Bruno, ora è teo Nonno Bruno, nonno Bruno, sempre con te Nonno Bruno, nonno Bruno, sempre con te 10, 10, 9, 10, 9 Bene, abbiamo votato, ora le due quinte di coltona Oggi per questi lavori di coltato hanno votato per nonno Bruno Cara Benedetta, sei contenta? Molto contenta Sei tanto contenta con questi due occhioni? E ringrazio la Giulia Ringrazio la Giulia E' una cosa bella, una cosa bellissima Ringraziare la Giulia, sempre e comunque Poi non è andato neanche male No Allora tu suoni pianoforte? Esatto Da grande vuoi fare cosa? Voglio fare una giornalista o una scrittrice Ah, già mai gli sto a scrittrice Quindi hai già le idee ben chiare insomma Ti piace giochi a tennis? Esatto Giochi a tennis E poi ascolti musica? Molta musica Tanta musica Questo è positivo sai La musica fa bene Fa bene Ascolti qualsiasi ora tu la musica Bello Musica pot Soprattutto Soprattutto E il tuo cantante preferito è? Giovanotti Senti, non piace solo a te Giovanotti? No No, infatti Ho un sacco di molti altri fan Eh sì, no? Ho capito Ascolta Ho capito Ma no, intendevo qualcun altro della tua famiglia Ah, molto piace anche a mia mamma Ah, la mamma La signora ascolta Giovanotti E allora insomma è bello questo, no? Vero? Eh, dai Allora, senti, bella esperienza del Murino Noi ci vediamo dopo Ciao No, 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 no No, una vera Per testa Per tardi